Oggi parliamo nuovamente di fotografie con iPhone. iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro non cambia tanto perché tanto il comparto fotografico non ha subito variazioni nell'ambito in cui andiamo a parlarne oggi, che è quello macro, quindi quando andiamo a fare fotografie da molto vicino per avere un ingrandimento del nostro soggetto. Vi consiglio di seguire questo contenuto fino alla fine perché andremo a dare una risposta definitiva se le fotocamere macro dell'iPhone sono valide oppure no. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni, possiedo degli obiettivi macro diversi, per la verità, uno è il 35mm che sto usando adesso che fa anche macro, un altro è il 100mm anello rosso di Canon che è secondo me l'obiettivo macro, uno degli obiettivi macro più belli in circolazione. Dopodiché ho l'MPE 65mm sempre di Canon che arriva a un ingrandimento di 5x, questo solo per dirvi che ho diverse ottiche macro e quindi so di cosa parlo. Le ho usate, so bene come devono rendere, che tipo di risultato mi devono portare. Questo è un telefono, cerca di darmi dei risultati simili. Oggi vi faccio vedere delle immagini che ho realizzato con questo telefono, quindi io non è che ne parlo apoditticamente e rimango sulle mie posizioni senza neanche testarlo. L'ho testato e continuo a testarlo per dare innanzitutto a me stesso una risposta e per sapere se posso utilizzarlo professionalmente anche per fare delle cose di lavoro oppure no. Nel corso di questo video vado a mostrarvi i risultati, vi ricordo però prima di andarli a vedere di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto e lasciate anche un like a questo video perché se siete in dubbio su quale telefono acquistare, questo contenuto potrebbe tagliare la testa al toro. Vi faccio vedere qualche immagine. Come andremo a vedere ho cercato qualcosa che fosse adatto perché la prima cosa che a me non piace per niente delle fotocamere macro di questo telefono è che per fare macro lui ti obbliga a usare il grandangolo. Ora, fare macro col grandangolo è una guasconata, è una cosa un po' volgarotta, però si può fare, è una cosa che può funzionare, può avere senso. Però non può essere l'unica soluzione. Perché vi dico questo? Perché fare macro la maggior parte delle volte è una questione di finezza, è una questione di precisione. Io voglio fotografare un insetto, lo voglio fare da lontano stringendo l'angolo di campo, non voglio farlo da vicino andandogli lì così all'insetto perché lo faccio scappare. Quindi per quanto mi riguarda già una macro che funziona solo col grandangolo, solo da tanto così di distanza, già è sbagliata. È un errore, è una pigrizia di progettazione. Siccome gli veniva più comodo progettarlo così hanno detto non troviamo una soluzione, facciamolo così e basta, tanto la gente non capisce niente. Ed è vero perché la maggior parte delle persone lo comprano e questo problema non se lo pongono nemmeno. Fare macro sul serio, secondo me vuol dire farla con un obiettivo più lungo di un 13 mm. Ci vorrebbe un 50, un 85, un 100 mm, anche un 180 per fare macro seriamente. Anche per un altro motivo, ne abbiamo già parlato in un altro video che vi linkerò da qualche parte, perché nel momento in cui noi facciamo macro con un grandangolo ci siamo appena giocati la macro di prodotto. Io non posso fare fotografia di prodotto con un ultra grandangolo perché l'ultra grandangolo deforma il mio prodotto e io non posso presentare un prodotto deformato in questa maniera. Quindi per la fotografia professionale di prodotto la fotocamera macro dell'iPhone è inutilizzabile, completamente inutilizzabile. Possiamo utilizzare le altre fotocamere, quelle che ci permettono di zoomare avanti, ma come già visto nel video di cui vi parlavo, che è già pubblicato sul canale, lo trovate già, le fotocamere da 47, 77 e 120 mm, non mi ricordo più quanti sono, però le fotocamere più lunghe, le fotocamere con la lunghezza focale più lunga, non ci permettono di fare macro, nel senso che se ci avviciniamo tanto stanno ritagliando l'immagine dall'altra fotocamera e quindi il risultato è qualitativamente agghiacciante. Quindi per quanto riguarda il comparto macro, secondo me questi telefoni sono progettati male, con tanta pigrizia. Andiamo a vedere queste immagini, come potete vedere se usiamo la fotocamera che lui vuole farci usare per fare macro, riusciamo in qualche maniera a portarci a casa qualcosa, con tutte le limitazioni del caso, perché ovviamente sono fotocamere che hanno tanti difetti, soprattutto a quella distanza, hanno tanti difetti di nitidezza, di messa a fuoco, lo vediamo molto bene in queste immagini, sono carine, io sono contento del risultato che ho tirato fuori. Quindi in certi ambiti, soprattutto quello naturale, naturale, naturale ma still life, quindi senza insetti, senza animali, perché un animale non sta lì, che gli andiamo tanto così dal naso a farsi fotografare, un animale scappa. Quindi per fare natura vivente, secondo me non va bene, per fare still life o piante, può andare bene, infatti queste immagini lo testimoniano. Le immagini sono assolutamente decorose, certe volte possono anche apparire belline, vi dirò, perché comunque è tutto in automatico, l'esposizione è in automatica, io ho fatto zero fatica, ho solo dovuto avvicinarmi, allontanarmi per fare la composizione che volevo, scattare la fotografia e me la sono portata a casa tranquillamente. Dunque vi do le mie conclusioni adesso, e poi però andiamo a parlare del perché questa tecnologia funziona oppure no, e lo vedremo alla fine del video. Secondo me le fotografie sono valide, perché comunque in ambito naturale non mi interessa così tanto che ci sia o che non ci sia distorsione, quindi a me comunque piacerebbe e tanto poter usare il 120 mm e stringere su uno di questi funghetti invece di dover catturare l'intera pianta. Preferirei avere la possibilità, ed è una questione solo di pigrizia, non ci voleva niente a progettarlo in questo modo, avere la possibilità di fare macro con tutti gli obiettivi invece che con uno solo, è Apple, ti tiro le orecchie. Secondo me, progettandola in quel modo, in modo da poter fare macro con tutti gli obiettivi, avremmo sì avuto degli ottimi risultati. In questo modo abbiamo degli ottimi risultati solo se usiamo il grandangolo, e questo chiaramente è penalizzante. Ed è proprio seccante come utilizzo, perché magari io dico, cavolo, il fungo più bello è sull'albero, è a un metro, e col grandangolo non arrivo a prenderlo. Se avessi potuto zoomare e fare macro con lo zoom avrei potuto catturarlo e anche bene, ma non posso farlo perché l'iPhone non me lo lascia fare. O comunque me lo lascia fare ma con una caduta qualitativa molto visibile, molto consistente e molto seccante. Quindi per questo motivo io vi dico, si può usare per fare macro sì, ma con molte limitazioni, perché molte cose non potremo farle, molte cose non verranno bene. Non è un telefono con cui io dico, io esco a fare macro, mi porto solo questo. No, io questo lo tengo in tasca, lo tengo lì come scorta, faccio macro con i miei obiettivi macro belli, come ho sempre fatto e questo lo uso se sono al volo, se sto facendo una cosa al volo per mandarla a qualcuno, se sto facendo magari qualcosa che con la macchina non riesco a fare perché devo infilarlo dentro in qualche intercapelline dove la fotocamera non entra, allora sì, però per il resto rimane secondo me un palliativo. Ma io non vi chiedo di fidarvi di me, faremo di più. Adesso faremo una cosa che non abbiamo mai fatto, ovvero vi faccio vedere un pezzettino di interfaccia grafica di Shutterstock, quindi vi faccio vedere solo questo pezzettino giusto per farvi vedere che le immagini che io vi ho mostrato durante questo video, io le ho anche caricate su Shutterstock, piattaforma di microstock che come sapete se seguite i miei contenuti è un sito dove noi mettiamo le nostre fotografie e qualcuno in giro per il mondo può trovarle così belle da comprarcele oppure può trovarle utili per la propria attività e comprarle per farci una pubblicità, una pagina di una rivista, quel cavolo che vuole lui, una volta che ce l'ha pagata fa quello che vuole. Il punto qual è? Questi siti si riservano di accettare o respingere le nostre foto in base a criteri loro, quindi se sono belle le accettano, se sono utili le accettano, se sono inutili perché nessuno le vuole o se sono brutte le rifiutano. Da quando c'è l'intelligenza artificiale però esiste una terza via, queste foto non vengono né rifiutate né respinte, bensì vengono messe in un limbo dove non sono in vendita, ma vengono tenute lì per addestrare intelligenze artificiali di vario tipo. Che cosa è successo alle immagini scattate con la macro di questo telefono? Non sono state rifiutate, ma non sono state neanche accettate. Sono finite in questo limbo dove servono unicamente per addestrare l'intelligenza artificiale, quindi non sono in vendita. Quindi io non riesco a monetizzarle le foto fatte con la macro di questo telefono. Quindi quando io vi dico che non sono contento, qui non è questione di dire Ferrari è capriccioso, qui è questione di dire professionalmente con la macro di un iPhone io non riesco a venderle, non me le accettano, me le mettono in una piattaforma parallela dove non vengono comprate ma vengono solo utilizzate per addestrare l'intelligenza artificiale. Quindi uno potrebbe anche dire vabbè ma se le usano per l'intelligenza artificiale sono valide. è mi, nel senso che queste immagini vengono analizzate, scomposte e usate per addestrare un motore che poi riprodurrà a sua volta altre immagini, ma le mie immagini non verranno mai usate da nessuno perché non sono in vendita, sono invisibili, sono finite dentro nel sistema ma non verranno mai comprate da nessuno. E quindi questo significa che io con la macro di questo telefono non posso lavorare, posso proporre qualcosa a qualche mio cliente che magari ci casca, però non gli sto facendo il servizio migliore del mondo e a quanto pare non posso vendere queste immagini perché le maggiori piattaforme di microstock non me le fanno mettere in vendita. Le usano per addestrare l'intelligenza artificiale ma non me le fanno vendere perché non le reputano abbastanza belle come pasta dell'immagine qualitativamente. Io non penso che fosse una questione di luce, era luce naturale, a me personalmente piaceva anche, però non me le lasciano vendere. E quindi per quanto mi riguarda, cara Apple, questo telefono va benissimo per gli influencer, va benissimo per fare le foto del gelato che stiamo mangiando per fare la sponsorizzata, va molto bene per fare foto di viaggi, questo l'ho già detto in video passati, per fare foto di viaggi l'ho trovato anch'io eccezionale, per fare macro secondo me assolutissimamente no, perché la camera che possiamo utilizzare per fare macro è sbagliata, perché i risultati che otteniamo quando facciamo macro non sono all'altezza di un'ottica professionale, mentre invece il grand'angolo quando facciamo paesaggio e viaggi quello sì, è quasi all'altezza, lì riusciamo a fare delle cose molto buone. Per quanto riguarda la macro secondo me assolutamente no e la prova del 9 è che comunque fotografie fatte, secondo me non male, io non le ho fatte male apposta per dimostrarvi che non funzionava, ho cercato di farle meglio che potevo, perché se andava bene me le vendevo pure, quindi avevo tutti gli interessi a farle bene e non avevo deciso aprioristicamente che avrei detto che non funzionava e io ho fatto le foto per poi farvi un video in cui vi raccontavo la mia esperienza, non ho cercato di fare le foto per dimostrarvi che non funzionava, ho cercato di fare le foto per cercare di farle bene. Le ho fatte secondo me discretamente ma Shutterstock le rifiuta e quindi questo è un problema perché significa che iPhone Pro, però di Pro per quanto riguarda la macro ancora non ci siamo. Questa è la mia esperienza, fatemi sapere se voi avete un'esperienza diversa, se vi siete trovati meglio, se avete fatto dei lavori con la macro dell'iPhone e il vostro cliente è stato contentissimo, parliamone qui sotto nei commenti come sempre, vi risponderò con degli shorts verticali per cui consiglio a tutti di iscriversi così non ve li perdete. Lasciate anche un like a questo video perché se stavate pensando di acquistare un iPhone per fare fotografia macro forse vi ho evitato di buttare soldi. Amici, grazie mille di essere stati con me fino a questo punto, io vi do come sempre appuntamento al prossimo video!